Sabato prossimo alle 20.30, Sala Consilina, grazie alla sinergia tra la BCC Montepruno, il Comune e l'Associazione di Ragazzi di San Rocco nel Teatro Comunale Mario Scarpetta, si terrà il sesto appuntamento della rassegna Teatro in Sala con il premio Campania Lucana, Lucania Campana, Enzo Polito. La serata e il premio saranno dedicati alla memoria di una persona che ha lasciato un segno tangibile del cuore di tutti, Enzo Polito appunto. Il premio infatti da quest'anno prende il nome del musicista, performer, insegnante, filantropo che ha lasciato in modo prematuro la sua famiglia e i suoi amici. La consegna del premio Campania Lucana, Lucania Campana, Enzo Polito, sarà impreziosita dalla presenza di tanti ospiti che hanno avuto un forte legame con Enzo Polito appunto e che avranno il piacere di ricordarlo al fianco della famiglia in nome della sua grande passione, la musica. La serata sarà arricchita anche dal concerto di Don Bacchi, un premio che negli anni ha visto salire sul parco Giovani Talenti, ha commentato il presidente dei ragazzi di San Rocco, Freda, non potrebbe avere una fornice migliore con il nome di Enzo Polito. Enzo ha affermato e emozionato il direttore generale Michele Albanese, è stata una figura speciale nel panorama musicale non solo. Mi piace ricordarlo, oltre che per la qualità artistica, anche per le sue virtù e per lo spirito che animava ogni situazione. Lo definirei unico e sono particolarmente felice, ha concluso il direttore generale della Montepruno, di rivedere negli occhi dei suoi figli la medesima umiltà con la quale coltivano con grandi risultati le loro passioni.